Buongiorno a tutti e benvenuti al Career Day dell'Università Europea di Roma. Noi oggi abbiamo cercato di vedere che il futuro è ancora appassionante. Non vi ne moralizzate mai, bisogna essere più proattivi rispetto a prima. Le università che finalmente funzionano veramente con un aggancio al mondo del lavoro. Prima classificata con 110 punti, Eleonora Alla che è invitata a salire sul banco. Mi dicono che da questo progetto oggi dobbiamo dare una buona notizia, mi sembra. Sì, sono state così brave che abbiamo deciso di integrarle nel nostro staff. Non permettete a nessuno di sprecare il vostro tempo.